Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Oggi ha inaugurato la mostra dedicata a un quadro e a diversi disegni di Boldini in castello e continuano quindi le riaperture in questo periodo. Faremo il punto anche con l'assessore al commercio per capire come stanno avvenendo queste riaperture in città, ma a breve sarà il giorno del concerto di Enrico Ruggeri a Ferrara. L'abbiamo intervistato ieri durante la presentazione dello spettacolo che andrà in onda a San Valentino e poi andrà in onda anche su Telestense la prossima settimana. Ma ieri è stato il giorno della sconfitta della SPAL contro il Pordenone per 3-1. Ieri nel tardo pomeriggio per noi c'era Alessandro Sovrani allo stadio e ci racconta così la partita. La peggiore SPAL della stagione si è sconfitta 3-1 dal match interno con il Pordenone e probabilmente inizia a dover dire addio alle speranze di conquistare il secondo posto anche se sono solo quattro i punti che la dividono dal Monza. Un Pordenone che ha dominato il match dal primo all'ultimo minuto al cospetto della formazione di Pasquale Marino che pensate eccezione fatta per il gol di Paloschi mai ha centrato i pali della porta difesa da Perisan. Parte subito bene la squadra di Attilio Tesseri a un'occasione con Buttic che calcia a lato trovandosi a tu per tu con Berisha Buttic che agisce praticamente sul fronte offensivo come unico punto di riferimento per i suoi compagni con il gran movimento alle sue spalle della coppia Biondi-Ciurri a giocatori che non hanno mai dato punto di riferimento ai difensori della SPAL. Quest'oggi apparsi in giornata veramente negativa in particolar modo Vicari che sta attraversando un periodo difficile. Spal che nel primo tempo solo in due circostanze ha provato di impensire la retroguardia avversaria abbiamo dovuto aspettare il ventiduesimo minuto per vedere una conclusione di Moro fuori bersaglio così come quella di Mora al ventinovesimo. Marino ha presentato a centrocampo esposito come punto di riferimento, un esposito che conferma di essere in un momento difficile così come non hanno dato l'apporto auspicato i due innesti del mercato di riparazione Mora e Segre. Al trentaduesimo il Pordenone è meritatamente passato in vantaggio. Falasco che ha costantemente spinto sulla corsia Mancina così come ha fatto sul fronte opposto Berra ha calciato una punizione dalla tre quarti la palla è carambolata sul corpo di Camporese definita a Butic che ha calciato da distanza ravvicinata non lasciando scampo a Berissa. La reazione della spalla praticamente non c'è stata ma ugualmente al quarantunesimo a coronamento di un'azione avviata da Strefezza che ha corsato un pallone dalla sinistra verso la linea di fondo dove è arrivato in spaccata Dickman il migliore in assoluto nelle file della formazione ferrarese che ha rimesso sul palo opposto dove Paloschi ha realizzato uno dei suoi gol colpo di testa di rapina ad un paio di passi dalla porta avversaria un paloschi che per il resto praticamente non si è mai visto a sua parziale giustificazione il fatto che raramente per non dire mai sia stato sostenuto adeguatamente dai compagni in particolar modo del centrocampo con Marino che nel primo tempo aveva schierato al suo fianco Moro e nella ripresa secche anche per loro serata da dimenticare Portenone che inizia bene anche il secondo tempo e al dodicesimo passa in vantaggio Vicari viene pressato da Butic nei pressi della linea di fondo campo in piena area di rigore rinvia malamente il pallone sul quale arriva Berra che da destra con il sinistro cross a centrale dove il piccoletto Ciurria sorprende i difensori della Spal una Spal che non riesce a reagire nonostante l'ingresso in campo di Francesco che ha dimostrato di essere ancora a corto condizione di Missiroli che comunque il suo contributo seppur minimo lo ha dato e di Valotti parso nervoso Valotti che tra l'altro si è fatto ammonire per proteste era difidato salterà quindi la gara con la capolista Empoli sabato il Portenone non correva assolutamente rischi anzi schierava il gol del 3-1 al 26esimo punizione di Butic e molto insidiosa Beriscia anche la sua prestazione così come quella di Dickman da considerarsi positiva riusciva a spedire il pallone in calcio d'angolo Spal tutta in avanti fatalmente punita dal contropiede avviato dal nuovo entrato Zammarini che scambiava con l'ottimo Ciurria e si presentava tu per tu con Beriscia che nulla poteva gara chiusa con il Portenone che torna a sperare nei playoff e la Spal che deve invece unicamente sperare nei recuperi di Tuminello e di Asensio perché con questo attacco con solo Paloschi si pare veramente impossibile che possa sperare di agganciare il carro delle primissime e attenzione poi a non finire anche più in basso perché la concorrenza sta arrivando ci riferiamo soprattutto al Venezia e allo stesso Portenone sabato gara difficilissima chissà che non trovano gli stimoli i giocatori di Pasquale Marino per il riscatto ma in questo momento sembra essere una sorta di chimera considerando soprattutto la condizione fisica dei bianco-azzurri ancora l'impossibilità di avere a disposizione a parte Segre e Mora comunque pure a loro ovviamente a scontare il fatto che non abbiano disputato un giro di andata da titolari non sorretti certamente da una condizione atletica ideale quanto necessaria per fornire un contributo importante Passiamo alla cultura adesso perché oggi è stata inaugurata la mostra in castello dedicata a Boldini, a un quadro di Boldini e ai suoi disegni Ferrara così continua a celebrare quest'anno il novantesimo anno dalla morte appunto del pittore ferrarese diverse le iniziative dedicate la prima è stata la collaborazione con il MART il museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto con cui si è realizzata la grande mostra monografica di Boldini contestualmente a Ferrara si è deciso quindi di allestire nella sala dei comuni del castello un'esposizione dedicata al tema della genesi del ritratto femminile dal disegno appunto al dipinto ieri mattina la presentazione della mostra, vediamola Boldini dal disegno al dipinto questo è il titolo della mostra attorno al dipinto della contessa dell'Es nella sala dei comuni del castello e sarà fruibile fino al prossimo 6 giugno mostra organizzata da Fondazione Ferrara Arte galleria d'arte moderna e contemporanea del comune di Ferrara il percorso è costruito attorno a un'opera depositata da una collezionista presso le gallerie d'arte moderna e contemporanea di Ferrara tela realizzata quando il pittore ferrarese Boldini risiedeva stabilmente a Parigi dove già da alcuni anni si era affermato come ritrattista mondano ricercatissimo da una facoltosa clientela internazionale accanto a questo ospite illustre vengono presentati anche 16 disegni della raccolta del museo ferrarese alcuni mai esposti ma come è nata l'idea di questa mostra durante una visita di Vittorio Sgarbi e altre persone alle gallerie d'arte moderna e contemporanea di Ferrara abbiamo ipotesi di riapertura del Massari con tutti i depositi in vista dopo aver mediato con la collezionista insieme al direttore Pietro Di Natale è stata organizzata questa mostra allestita nella Sala dei Comuni che secondo Sgarbi non poteva essere utilizzata solo per le conferenze stampa ma doveva essere valorizzata artisticamente e come abbiamo visto in conferenza c'era anche ospite Enrico Ruggeri che ieri ha presentato alla stampa il concerto L'amore ai tempi del colera registrato al Teatro Comunale l'evento sarà diffuso in occasione della festa di San Valentino e verrà proposto anche da Telestense nella serata del 16 febbraio ma sentiamo l'intervista a Ruggeri Enrico Ruggeri protagonista del Teatro Comunale Abbado in un concerto dedicato all'amore è quanto accadrà a San Valentino con un evento multipiattaforma trasmesso in radio, tv e su internet e che avrà anche Telestense tra i media partner L'iniziativa andrà in onda sui nostri canali 16 e 298 del Digitale Terrestre e su Telestense.it martedì 16 febbraio alle 21.30 Il cantautore milanese ha registrato la performance nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 febbraio anticipando alla stampa alcuni dettagli sullo show Sì, è un concerto unico, con una scaletta unica in un posto unico, in una città unica e quindi sono molto contento sono molto contento Ferrara in questo momento ha una vivacità intellettuale notevole insomma ci sono tante cose che confluiscono qua in una bella idea poi insomma la festa degli innamorati o qualche canzone d'amore l'ho anche scritta quindi si tratta solo di sceglierne alcune e suonarle qua sperando quanto prima di tornare in questo teatro con il pubblico Presenti alla conferenza stampa che ha reso noto l'evento il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi il vice sindaco Nicola Lodi il coadiutore artistico della Fondazione Teatro Comunale Marcello Corvino oltre a presidente e direttore del teatro Michele Placido e Moniovadia entrambi collegati in videoconferenza Sgarbi ha invitato poi accanto a sé lo scrittore Roberto Pazzi che ha parlato di Gabriel Garcia Marquez autore dell'amore ai tempi del colera testo a cui si è ispirato lo stesso Ruggeri chiamando in questo modo il concerto che offrirà alla città di Ferrara Semplicemente perché ho scritto una canzone nell'ultimo album che si chiama L'amore ai tempi del colera che ovviamente prendeva spunto dalla storia del libro di Marquez e mi è sembrato inevitabile chiamare questo concerto in questo modo visto la situazione e tutte le contingenze Ruggeri ha espresso parole di favore per le tante sfumature culturali attorno al teatro comunale e dall'evento stesso compiacendosi anche della città di Ferrara è una città fantastica Quindi come abbiamo visto sono tante le iniziative a Ferrara tra cui appunto l'apertura questa mattina di Boldini ed è una appunto delle iniziative che torna a rianimare la città ma come l'amministrazione comunale sta monitorando questo periodo e come può affiancare soprattutto il commercio in questa fase ce lo dice l'assessore al commercio appunto del comune Matteo Fornasini Il fermento degli eventi, delle iniziative culturali è sicuramente un sostegno importante proprio per l'indotto che genera pensiamo solo alla mostra di Ligabue in pochi giorni ha registrato oltre 1500 visitatori che molto spesso provengono da fuori, dalle province vicine per cui questo significa aiutare e sostenere le attività economiche i ristoranti, i negozi, il turismo è tutto l'indotto che ruota attorno a questi eventi quindi ci auguriamo davvero che si possa continuare così Ferrara è pronta per ripartire e sostenere la ripartenza e ci auguriamo anche che magari si possa anche tenere aperti i musei sabato e domenica perché sarebbe un ulteriore segnale di ritorno alla normalità ovviamente sempre rispettando le prescrizioni e le misure di sicurezza che nei musei di Ferrara si assolutamente rispettano riapriamo il castello e inauguriamo un focus come lo ha definito Vittorio Sgarbi che ringrazia un focus su Boldini con un importante quadro e con una parte di collezione che sicuramente potranno saper attrarre e valorizzare ancora di meglio ancora meglio il nostro monumento più importante che è il Castello Estense Ferrara è pronta a ripartire e tutte queste iniziative questo fermento culturale generano sicuramente un indotto importante anche a livello economico in un momento in cui le tante attività economiche vanno aiutate e vanno sostenute in tutti i modi Continuiamo a parlare di economia si è tenuta ieri mattina in modalità online l'assemblea annuale dei delegati di Lega Copp Estense oltre 150 i partecipanti collegati per fare il punto della situazione delle cooperative associate a un anno dall'inizio della pandemia insieme hanno analizzato le prospettive future al presidente di Lega Copp Estense Andrea Benini il compito di formulare poi richieste e proposte i rappresentanti delle istituzioni intervenute diverse tra cui il Comune di Ferrara e la Regione Emilia Romagna per cooperare insieme a una nuova ripartenza sentiamo un anno che ci ha messi alla prova chiedendoci di resistere, di reagire e di andare avanti comunque nonostante i rischi, nonostante le limitazioni, i drammi di tante persone colpite e uccise dal virus in qualche modo ce l'abbiamo fatta in qualche modo abbiamo resistito infatti resistere è stato il nostro primo impegno quasi tutte le cooperative sono state colpite con conseguenze differenziate a seconda dei settori di appartenenza durante il lockdown il 67% delle aderenti ha dovuto usare gli ammortizzatori sociali che hanno coinvolto circa il 30% dei lavoratori a causa dei ritardi di erogazione tre quarti delle cooperative hanno dovuto anticiparli ai dipendenti facendo fronte con le proprie riserve e subendo gli effetti sulla liquidità infatti oltre l'80% è intervenuto sulla struttura finanziaria attivando le moratorie e le diverse misure previste dal governo a sostegno del credito con un ritardo circa di tre mesi tra pubblicazione e erogazione in particolare per l'anticipo degli ammortizzatori generalizzato è stato il cavo dei ricavi con una forbice di riduzioni tra l'80% e il 10% del fatturato su base annua il nostro centro studi nazionale di Lega Coop ci dice che il 68% delle cooperative si aspetta una domanda stazionaria anche nel 2021 il 75% dichiara che non interverrà comunque sul personale cercando di estelare al massimo i lavoratori pertanto chiede la proroga degli strumenti di integrazione salariale almeno per i prossimi 3-6 mesi soprattutto nei settori della cultura, dei servizi e del sociale il mondo dei lavoratori, delle cooperative è stato messo duramente alla prova dalla pandemia ed è stata un po' la trincea che ha difeso molto spesso la nostra salute e che molto spesso ha preso anche delle colpe anche quando le colpe non c'erano lo dico per quello che è il mondo delle cooperative nell'ambito sociale basta pensare un po' alla gestione delle case di riposo lo dico per le persone che hanno lavorato all'interno ma anche delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie e quindi se oggi siamo riusciti a ottenere dei risultati importanti in questa città, in questa provincia, in questa regione penso che sia merito anche dello sforzo che è stato fatto per tutelare oltre che i lavoratori anche le persone che questi seguivano entro due o tre mesi avremo come sarà vaccinato le persone più anziane le categorie professionali a rischio questo farebbe crollare ad esempio i ricoveri e quindi eviterebbe ad esempio in futuro ulteriori restrizioni che poi hanno comportato un vero e proprio dramma per diverse categorie economiche che riguardano i settori dei pubblici esercizi della ristorazione, dei bar delle palestre, le piscine, il mondo dello sport il mondo della cultura di cui non parla quasi mai nessuno partite IVA eccetera ci auguriamo che il governo che sta per nascere abbia ben chiaro che questo paese ha bisogno di una politica di crescita e di sviluppo sostenibile perché ci troviamo in una nuova recessione e abbiamo e avremo bisogno di recuperare posti di lavoro e competitività ma il recovery plan è davvero un'opportunità straordinaria storica che ci può dare modo di risalire anche di fronte alla drammatica pandemia che ancora non abbiamo sconfitto Parliamo adesso della riqualificazione dell'area di Ferrara ex Palaspecchi e Palasport c'è un importante progetto in atto oggi ci sarà un approfondimento in conferenza stampa ma vediamone un'anticipazione riqualificare la zona dell'ex Palaspecchi e delle altre strutture limitrofe a destinazione sportiva invitando potenziali partner pubblici o privati a presentare proposte progettuali nasce con questa idea la delibera approvata in giunta che prevede l'assegnazione dei finanziamenti del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare annunciati con il decreto interministeriale del settembre scorso ai candidati di iniziative atte a riqualificare la zona le proposte dovranno connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili di elementi di infrastrutture verdi di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti prevedere soluzioni di bioarchitettura per il riciclo dei materiali e il raggiungimento di elevati standard prestazionali energetici e per la sicurezza sismica dovranno inoltre prevedere la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale spazi per l'attività sportiva indoor-outdoor per l'aggregazione sociale e per la formazione oltre che piste ciclabili di collegamento con la città parcheggi e aree verdi e pavimentate obiettivo del progetto dunque è quello di valorizzare le strutture esistenti attraverso specifiche azioni di recupero e con questo è tutto grazie per l'attenzione e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti